In occasione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, il prefetto di Cremona, Corrado Conforto Galli, ci ha illustrato i dati relativi alla nostra provincia e le peculiarità di questo fenomeno ancora poco conosciuto. Per quanto riguarda Cremona, diciamo che c'è una pianificazione provinciale per le persone scomparse elaborata dalla prefettura e alla cui collaborano tutte le forze di polizia, i vigili del fuoco in caso di denuncia. Per quanto riguarda i dati, noi nel 2022 abbiamo avuto circa 94 denunce di persone scomparse e 40 sono ancora quelle per cui non sono stati ritrovati, mentre per oltre 50 sono stati i ritrovamenti. Diciamo che riguardano persone che stanno in fase di aumento, soprattutto i minori. Il minore è un fenomeno che si stava crescendo negli ultimi anni, ma anche anziani. A volte ci sono anziani con danni cognitivi e quindi si teme magari per la loro incolumità, quindi si interviene da subito. Ma quello che volevo sottolineare è l'importanza della denuncia, perché senza la denuncia non c'è l'avvio della ricerca e quindi quanto più è tempestiva la denuncia, quanto maggiore sarà l'efficacia dell'azione di ricerca. L'aumento dei casi dei minori sembra avere cause eterogenee e coinvolgere diverse tipologie di persone. Ci sono circa il 50% che riguarda anche stranieri che possono essere non accompagnati, come anche facenti parte del nucleo familiare, quindi accompagnati, o tante volte capitano che noi attiviamo il piano proprio per persone diciamo normali che magari hanno fatto un colpo di testa. e forse questo è il caso dei casi migliori, perché comunque poi si riesce, soprattutto anche a seguito della denuncia, una volta che si capisce molto più precisamente il contesto, a rendere più efficace le ricerche anche fuori di provincia.